Domani si scendereà in campo per la decima giornata di campionato. In programma è previsto il match fra l'FC Matese e l'Avezzano, che si disputerà allo stadio Pasqualino Ferrante di Piedimonte. Reduce dal turno infrasettimanale a Fossombrone, la truppa campana è riuscita a smuovere, seppur di poco, la classifica. Ottimo il punto conquistato contro l'attuale vicecapolista Fossombrone, una gara importante che ha permesso al Matese di portarsi a quota 10 in classifica. Attenzione però ai cali di concentrazione, la classifica è molto corta e un semplice passo falso potrebbe costare caro. Domani l'ospite di turno sarà l'Avezzano in piena corsa per un posto tra le grandi del girone. Reduce dall'importante successo di misura sul campo basso, la squadra abruzzese arriverà a Piedimonte con il solo obiettivo di non interrompere la striscia positiva. Per quanto riguarda la formazione di domani, Corrado Urbano non dovrebbe modificare troppo l'undici visto in opera mercoledì scorso. Tra i pali Palombo in difesa De Lucia, Lesi, Gaiardini e Guarino. Al centro del campo Ricciardi, Gomis, Marcucci e Bracaglia. Attacco composto da Iada Resta e Napoletano. Con fischio d'inizio alle ore 14.30 l'FC Matese Avezzano sarà diretta da Cosimo Papi di Prato assistito da Giovanni Gigliotti e Giuseppe Fanara di Cosenza.